Sette giorni in consiglio In settimana le commissioni hanno proseguito l'esame dei disegni di legge su finanziari e bilancio. In sanità è proseguito l'ITAR del provvedimento sul futuro dell'ospedale Gradenigo e in commissione ambiente quello sul riordino degli antiparco. In seduta congiunta hanno svolto le audizioni sul controllo e monitoraggio del rischio legato all'amianto. In primo piano E' proseguito nelle commissioni l'esame dei disegni di legge su finanziari e bilancio. Tre capitoli di spesa più rilevanti, oltre alla sanità che assorbe più dell'80% del bilancio dell'ente, i trasporti, cui sono destinati 520 milioni di euro, e le politiche sociali, cui i fondi per il 2015 ammontano poco più di 102 milioni di euro. Confermata la disponibilità di risorse della precedente programmazione per le attività produttive. La sala dell'orologio della città di Torino ha ospitato la riunione congiunta delle commissioni cultura del Consiglio regionale e del Comune. Al centro della discussione, la presentazione del piano di integrazione tra Fondazione Torino Musei, Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e Associazione Torino Città Capitale Europea. Obiettivo, un nuovo modello organizzativo basato sulla programmazione e le sinergie tra enti. Le commissioni Sanità e Ambiente si sono riunite in seduta congiunta per le audizioni di enti e organizzazioni che si occupano del controllo e monitoraggio del rischio amianto. Dai dati forniti sarebbero circa 230 i nuovi casi di mesotelioma all'anno in Piemonte. Con la legge di stabilità, il governo ha assegnato oltre 64 milioni di euro al sito di interesse nazionale di Casale Monferrato per la definitiva bonifica dall'amianto, che saranno stanziati attraverso la regione. In breve Era presente anche il gonfalone della regione Piemonte con i rappresentanti dell'Assemblea Legislativa alla manifestazione promossa da Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, che si è tenuta sabato 21 marzo a Bologna. La giornata della memoria dell'impegno a Torino si è svolta il 20 marzo, alla presenza delle istituzioni locali, per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnovare, in nome di quelle vittime, l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!